Ma questa è una persona malata, questo è un pazzo ragazzi, ragazzi questo è un pazzo, questo è un pazzo, io ci sto mettendo la faccia, questa è una persona malata, questo è un depresso, questo racconta comorra, non fa altro che raccontare quello che legge dai giornali e quello che è successo al 2004, ma non lo stavano in italiano. Barsaliano non puoi definirlo come l'avete definito voi, per voi può essere un pazzo, Per me è un narratore di realtà, ma qual è la realtà, Trax sta raccontando le stesse cose dal 2004, ma non ce la facciamo più a sopportarlo, Saviano sta raccontando dal 2004 sempre la stessa storia, abbiamo capito.